Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, primo di febbraio 2017, siamo in diretta come tutte le mattine da lui via sabato alle 7.30 per leggere i giornali e tra poco lo vedremo con il nostro test screen, i giornali della provincia di Pesurbino, il resto del carino del Corriere Adriatico. Oggi è mercoledì, cominciamo con il santo del giorno, il santo di oggi è il Beato Luigi Variara, stato sacerdote. Questo Beato nasce vicino ad Asti nel 1875 e si è occupato spesso, soprattutto nella cura dei lebrosi piccoli e grandi ai quali ha prestato le cure più umili e servizi più ripugnanti. Il sole è sorto, andiamo a rivedere, scusa Matteo, andiamo a rivedere il sole. Allora, alle 7.24 tramontarà 17.19. Allora, il tempo per la giornata di oggi, oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti maggiori a ridosso dei rilievi, avremo, vedete, possibilità anche di qualche debole di isolato piovasco lungo i rilievi appenninici nei versanti esposti ad ovest. La temperatura è in aumento nei valori minimi. Tra l'altro possiamo dire anche che questi venti sud-occidentali danno ancora una temperatura piuttosto mite, siamo a 11 gradi già alle 7.30 del mattino, quindi questa mattina si sta piuttosto bene fuori. Giovedì 2, domani invece avremo ancora, vedete, cielo con possibilità di occasionare i deboli piovaschi, in particolare a nord della regione, vedete, nella provincia di Peso Urbino, alternato a delle schiarite, le temperature sono senza variazione di rilievo. Per venerdì 3 di febbraio il tempo peggiora ancora, avremo deboli piovaschi sparsi nella seconda parte della giornata, quindi nel pomeriggio di venerdì il cielo sarà parzialmente nuvoloso e aumenterà questa nuvolosità appunto, come dicevo, nel pomeriggio. Le temperature invece venerdì saranno in lieve diminuzione nei valori massimi, i venti saranno moderati, probabile ancora peggioramento per la giornata di sabato e temporaneo miglioramento per domenica con un nuovo peggioramento però per la giornata di lunedì. Cominciamo a leggere i giornali, il resto del Carlino, eccola qua la notizia principale con la fotografia grande che riguarda i controlli, i controlli dei vigili della Polizia Municipale di Pesaro e dei carabinieri che sono in azione alla stazione per controllare gli extracomunitari. Erano però tutti in regola, il titolo è Il Muro. Poi sopra invece poliziotti feriti e delinquenti liberi. Dopo la violenta rissa in piazza Matteotti il sindacato di polizia rilancia la polemica bisogna cambiare le leggi. E poi dopo il sisma la Regione Marche farà lo spot per cercare di riportare i turisti nella Regione Marche perché sapete insomma che il terremoto, la neve, tutte le vicende di cronaca di questi ultimi mesi non hanno fatto altro che far scappare i turisti dalla Regione Marche ebbene farà degli spot con una tariffa sociale, così è stata definita la tariffa che la RAI farà pagare per trasmettere gli spot della Regione Marche durante il festival di Sanremo che inizierà nei prossimi giorni. E poi sempre dalla prima pagina del resto del Carlino la notizia da Urbino che sono stati annullati i voti dei 39 studenti che hanno dato tra virgolette l'esame ma senza proferire parola, nel senso che ce n'erano tanti a dare questo esame, il professore ha detto vabbè datemi il libretto, facciamo una media e poi gli ha fatti andare via. Quindi questa cosa non è piaciuta al Rettore che è intervenuto sulla sessione di psicologia con questa scorciatoia e dunque sono stati annullati. Allora andiamo nella pagina di Fano del resto del Carlino. L'Ateneo taglia 100, sull'Ateneo tagliati 120 mila euro, questo è il bilancio comunale del Comune di Fano appunto, glieli ridiamo ma è polemica, mannaia sul contributo per la sede fanese della Facoltà di Biotecnologie e questo è certamente un pessimo segnale. Il Sindaco però rassicura solo un'operazione per far tornare i conti. Sotto invece la strada per il Cecchi, l'Istituto Agrario parte già in salita, infatti ci sono soltanto pochi giorni per le iscrizioni, parla la dirigente dopo l'ok della politica della regione, ora tocca ai tecnici. In questa immagine la dirigente dell'Istituto Agrario Cecchi Donatella Giuliani nel suo ufficio a Villa Caprile di Pesaro. Le iscrizioni a scuola dovranno pervenire entro il 6 febbraio, quindi attenzione perché ci sono davvero pochi giorni. se avete intenzione di fare questo istituto, di frequentare questa scuola a Fano dovete iscrivervi entro il 6 febbraio. Contiamo per quanto riguarda invece gli spazi esterni su un terreno messo a disposizione del Comune vicino al Plesso. Tutte le informazioni poi sulla pagina di oggi del resto del carino. La cronaca invece, il marito litiga e finisce con un coltello in pancia, è stato un incidente, si è difesa la moglie ma la polizia vuole vederci chiaro. È una notizia che arriva da Fano che riguarda un dramma che si è consumato nella cucina di un appartamento in via Tomani-Amiani all'ora di pranzo. La donna è una 66enne fanese, stava preparando il pasto e c'è stato questo litigio. Poi tutti i dettagli nel giornale di questa mattina. Poi sul carnevale invece i vecchi e i nuovi, cioè quelli che facevano parte della vecchia gestione, quelli di Luciano Cecchini e i nuovi, quelli che fanno parte del gruppo di Maria Flora Gianmarioli, si sfidano a colpi di Veglione, Veglione di carnevale. Due appuntamenti infatti la stessa sera, al J c'è il Carneval Azz, alla Palazzina Sabatelli invece c'è una festa in maschera organizzata appunto dal gruppo di Luciano Cecchini. E poi altre notizie che troverete sulla pagina di Fano del quotidiano appunto del Carlino. Poi sulla pagina di Fano del Valle del Cesano, allora guardate questa fotografia, guardate che bella, sono i baby profughi che sono già arrivati, però sono a Cucurano di Fano, ospiti di Casa Lucia, 13 ragazzi e cosa dicono? A Cucurano il quartiere è felice. Sabato l'inaugurazione della struttura, è un momento di condivisione, vedete in questa fotografia di questa, a Casa Lucia, questa nuova comunità di Cucurano dove questi 13 ragazzi provenienti dal Ghana, dal Kosovo e dall'Albania vivono insieme, seguiti naturalmente dagli operatori. E questa è l'immagine. Poi ancora c'è la notizia che riguarda una iniziativa che c'è tutti gli anni, una rassegna, una rassegna di dialetto fanese, di qualità e divertente, così Cianfrusaglia ha fatto 13. Più di 40.000 persone, pensate, nelle 10 serate messe in scena lo scorso anno nel teatro di Fano. Sono circa 54.000 gli spettatori stimati nei 12 anni di vita di Cianfrusaglia, questa rassegna di commedie dialettali fanesi che diverte appunto i fanesi e allo stesso tempo salvaguardia quel patrimonio immateriale che è il dialetto e che va assolutamente salvaguardato. Allora noi daremo il nostro contributo in che senso? Nel senso che nei prossimi giorni abbiamo durante il periodo di carnevale, salvo cambio di programma, però sempre d'accordo con le compagnie dialettali, come facciamo ormai da 11 anni, trasmetteremo il venerdì sera, quando solitamente la televisione, specie quella in bianco e nero, dedicava questa giornata al varietà, noi dedicheremo e daremo spazio a questa rappresentazione, a queste commedie dell'anno scorso, quindi a teatro vedrete quelle di quest'anno, in televisione avrete la possibilità di avere un assaggio, quindi di vedere quelle di quest'anno, dell'anno scorso. Allora questa è la programmazione invece per la televisione, poi il ritorno di Carrabs invece, siamo sulla pagina di Urbino del resto del Carlino, questa volta alla Svim, l'esponente dei Verdi si è riavvicinato al PD dopo la rottura con il sindaco Gambini. Ho presentato, dice Carrabs, la mia candidatura in base al bando e Ceriscioli ha scelto me. Ecco qua invece la foto, le due foto anzi scattate ieri alla stazione, nelle stazioni di Fano e di Urbino, perché c'è stata una cerimonia in queste due stazioni per i 30 anni della chiusura della tratta Fano-Urbino. A Fano vedete un momento tra l'altro del collegamento con Lino Balestra che ieri ci ha fatto ascoltare anche l'ultimo annuncio, quello proprio ufficiale, con la voce ufficiale dato 30 anni fa, del passaggio del treno che appunto da Fano andava verso Urbino e poi l'altra fotografia invece dei volontari di quelli dell'associazione Ferrovia Valle del Metauro a Urbino dove appunto simbolicamente ieri è arrivato questo treno che da 30 anni però invece non c'è più e si spera naturalmente che possa in qualche modo essere riattivato. Lavori sul ponte, siamo a Urbagna, sempre dal resto del Carlino, lavori sul ponte, l'ombra del fallimento. Tagliolini, il presidente della provincia, la ditta è in crisi e ha bloccato il cantiere. Non sappiamo dunque quando finiranno questi lavori. Piove davvero sul bagnato, stiamo parlando di questo ponte tra l'altro strategico anche per la viabilità soprattutto in Urbagna, sopra il ponte vedete dei conciatori che è ancora lì. Purtroppo la ditta è in crisi, forse fallisce, fallirà, non si sa. Purtroppo questa è la situazione. A Piobbico invece finanziati i nuovi laboratori e un atelier all'API, premio alla progettualità della dirigente a Cili, soddisfatto il sindaco di Piobbico, Mocchi. Poi a Fermignano solidarietà ai terremotati, raccogliamo e inviamo tanti aiuti, un gruppo di cinque persone, tutti residenti nella zona tra Fermignano e Urbagna, che ruotano intorno al parroco di Calpino, Don Fabio, e soprattutto hanno tutti in mente un imperativo, cioè quello della solidarietà. Apriamo adesso invece il Corriere Adriatico, velocemente andiamo a vedere i titoli. Il pugno duro contro il Far West, a Pesaro arrivano gli agenti e telecamere. Maxi Rissa, Chiosco sotto esame, il SIULP, poliziotti feriti, gli aggressori invece liberi. Sulle cartelle esattoriali invece, sì alla sanatoria, il Comune di Pesaro aderisce alla rottamazione, l'assessore delle Noci parla di opportunità per i contribuenti, dunque niente sanzioni o interessi. Sempre sulla vicenda del Far West ci sono adesso le fotografie sul pugno duro della polizia che vedete effetto a controlli insieme alla Polizia Municipale e Polizia di Stato, controlli accurati, ne sono stati controllati tanti ma a quanto pare tutti erano in regola, perlomeno quelli controllati nella giornata di ieri. Dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico, nuovi fondi per rafforzare la scogliera davanti al porto, la Regione stanzia altri 282 mila euro a tutela delle opere di Marina Group, la barriera non è più in grado di proteggere la diga foranea sul lato di Levante, ma i blocchi diventano pericolosi per i bagnanti, l'associazione Mare Dentro paventa i rischi per quanti lì si sdraieranno oppure faranno i tuffi che però in questi casi appunto andrebbero vietati. Scontro invece, e qui siamo sul resoconto del Consiglio Comunale di Fano di ieri, scontro sulle spese sociali, il PD ritira l'emendamento, il bilancio passa maggioranza, salvati i fondi del gabinetto del Sindaco, il Comune non farà morire l'aeroporto, quello di Fano, le rassicurazioni del Sindaco di Seri sull'infrastruttura, sulla pista invece né sì né no. Fano resta penalizzata, le dirigenze scendono a tre, confermato il sacrificio del Battisti, Carloni tuona, il consigliere regionale, l'ho difeso soltanto io, dice il consigliere regionale di area popolare, segnala che Urbino ha quattro autonomie scolastiche, Senigallia cinque e Pesaro sette, invece Fano tre. Cianfrusaglia un teatro dialettale tutto da ridere, le tre commedie al Politeama inserite nel programma ufficiale della Carnevalesca. Dalla Valle del Cesano invece, ecco questo è importante perché il 18 di febbraio, dalle 8 del mattino alle 14, ci sarà l'intervento degli artificieri sulla strada provinciale di Cerasa, dove è stata rinvenuta una bomba e pensate che questa bomba in quella giornata terrà fuori casa, per questa evacuazione, c'è un'ordinanza del Sindaco di San Costanzo, 300 persone, quindi tutti nella palestra per il pranzo, un pranzo che verrà certamente offerto a tutti quanti. A San Costanzo c'è questa ordinanza per gestire la rimozione di un ordigno che è per il 18 di febbraio. Entro domani però i residenti devono consegnare i questionari sulla sistemazione prescelta, quindi attenzione, entro domani c'è questa scadenza. Poi in marcia, tutti insieme per costruire la pace, l'azione cattolica sabato replica all'iniziativa diocesana, ci saranno anche il Vescovo e il Sindaco. Da Senigallia il salasso della Tari, la Tari è una tassa, ora è ufficiale, c'è stata questa lite da Salun e gli insulti che poi sono proseguiti dopo la sala del Consiglio Comunale di Senigallia sono proseguiti sui social network, la tensione è molto alta tra Girolametti e Paradisi dopo il Consiglio infuocato appunto sulla tassa. Autoerotismo e droga al parco, un incubo doppio per le famiglie. Siamo sempre a Senigallia, il consigliere Bedini raccoglie i timori dei genitori di Marzocca e chiede più illuminazione perché pare appunto che nella frizione a Marzocca serpeggia la paura per episodi di spaccio ed esibizionisti dietro le siepi, così come c'è l'allarme Scorpioni a Ostra dentro un deposito attrezzi della palestra comunale. Però, insomma, mi hanno sempre detto, io ne ho visti qualcuno, però mi hanno sempre detto che al massimo quelli che si trovano qua, pizzicotto e nulla di più. Un po' di rossore, ma non sono pericolosi. Sempre da Senigallia, tre castelli questa volta però, coltello in mano, chiama il 112 e dice sto per uccidere mia moglie, lei si barrica nella cameretta, lui all'arrivo dei carabinieri si agita e la spintona. È un 49enne, muratore, ha chiamato il 112, mentre brandiva un coltello da macellaio. È stato arrestato, lui è un meccanico di tre castelli a punto, picchiava la donna anche davanti alle figlie. Agliese invece, guardate, passa un camion sull'asfalto del viale, si apre una voragine, i passanti improvvisano sbarramenti sui social, impazzano foto e commenti. Poi ancora, sempre da Iesi, ieri vi abbiamo dato la notizia sempre nel telegiornale di un ragazzino di 13 anni, travolto da un'auto mentre andava a scuola, grave per il corriere, attraversava la strada per raggiungere la corriera. Da Falconare invece velocemente il 118 escluso dall'aeroporto, basterà la guardia medica e da Urbino ora la finanza sale in cattedra, utile scambio con l'università, si parla di legalità economica insegnata agli studenti e corsi mirati e degevolati per il personale. Direi che possiamo fermarci qui per la rassegna stampa di oggi, non c'è altro, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia, ma vi ricordo anche che le segnalazioni, le vostre segnalazioni sono sempre molto importanti per la nostra redazione, quindi segnatevi questo numero nella vostra agenda del telefono 338 4968 250, sotto magari ci scrivete come nome FanoTV e quando avete qualche cosa da comunicare chiamateci oppure inviateci segnalazioni foto video con whatsapp, noi le leggiamo tutte, le valutiamo tutte, le verifichiamo e poi eventualmente le metteremo nel nostro telegiornale. A voi tutti gli auguri di una buona giornata.